È stato definito uno dei più giovani angel investor italiani e in breve tempo ha scalato l'Olimpo della finanza. Nel 2018 ha fondato con il suo socio Stefano Picchio la Community Investiro, community che esplora a 360 gradi il mondo degli investimenti e del business. Attraverso la nostra intervista conosciamo meglio Alessandro Del Saggio e alcuni lati inediti e interessanti di lui. Innanzitutto, ciao Alessandro e benvenuto. Ciao, grazie mille. Potresti portarci un pochino all'origine, a quando eri ragazzo? Quali erano i tuoi sogni e le tue ispirazioni, magari le stesse di oggi o completamente diverse? Ok, quindi partiamo proprio dall'inizio. Dunque, partendo dalla domanda se effettivamente le ispirazioni erano le stesse o mi sarei aspettato effettivamente di poi fare questo percorso di vita, secondo me la risposta è la parte più semplice ed è assolutamente no, nel senso che non me lo saremmo aspettato. Avevo qualche idea o comunque qualche piccolo sogno di che cosa avrei voluto fare e soprattutto di che cosa non avrei voluto fare. Magari quando ero, non so, alle scuole elementari, no? Sai che ci sono il sogno del cassetto, c'è chi diceva, non so, il calciatore, l'astronauta. Tu cosa rispondevi? Ho voluto molto fare. Io gli dicevo, inizialmente, due cose che non c'entrano assolutamente niente, però avevo questa passione strana. All'inizio, tanto la parte esplorativa, tipo l'archeologo, così, e ci sta. E poi a un giorno appunto mi ero fissato, questo sono gli ultimi anni di scuole elementari, con la strategia militare, perciò un sacco questi giochi qua. Quindi ho detto, uno stratega militare, così, perché mi piacevano buono le mappe, queste parti qua. E quindi quelle erano un po' le idee, ma comunque, non so, era più un... Se dovessi proprio scegliere cosa vorrei fare, o l'esploratore, appunto una persona che gira tanto e fa ricerca, oppure se ho qualcosa che ha a che fare con la strategia. Tuttavia mai mi sarebbe aspettato poi quello che è successo, anche se poi a ritroso a qualche punto, qualche collegamento, l'ho identificato. Ma no, non vedevo effettivamente questi aspetti. E soprattutto devo dire che questo è dovuto anche al fatto, probabilmente, che quando ero un po' più piccolo, sicuramente alle scuole elementari, soprattutto poi alle scuole medie, ecco, ero un ragazzo un pochettino più... Qualcuno diceva, gli insegnanti, dicevano, non so, irrequieto, un po' più esagitato, nel senso che facevo un po' di casino, facevo un po' di guai. Ora, ripeto, molte persone che mi hanno incontrato, o a distanza di anni che mi conoscevano prima, dicono che sembriamo due persone differenti, effettivamente sono cambiate tante cose. Chi mi conosce successivamente a volte fa fatica a crederlo, però, non che sia una cosa positiva, però facevo un po' di casino quando ero alle scuole medie, poi ho messo la testa a posto dopo tanti anni, ecco, mettiamola così. Perciò anche quello, alla fine, io dicevo, voglio andare a lavorare il prima possibile, perché mi dava veramente fastidio, noia, studiare e quant'altro. E quindi effettivamente poi anche quello che è stato il mio percorso di studi, tra virgolette, successivo, perché ho fatto una scuolaccia veramente terribile, e era subito indirizzata a andare a lavoro successivamente. Infatti ti avrei proprio fatto questa domanda, cioè che percorso hai seguito, qual era la tua vita prima di iniziare a investire, se vuoi condividere. Certo, dal punto di vista di studi in generale, che idei hai? Sì, di studi in generale. Ok, allora, beh, io ho fatto una scuola media pubblica, normale, e successivamente, quando c'è stato il momento di scegliere che scuola superiore andare a fare, tra l'altro io avevo un anno in più perché mi ero stato bocciato in seconda media, perché non per i voti, ma perché avevo fatto qualche casino, qualche stupidata delle mie, e ho iniziato a comprendere e a capire quello che avrei voluto fare. Io sono dell'idea comunque che un ragazzo in terza media fa davvero fatica, cioè è davvero una scelta difficile quella di quale scuola andare a fare, perché purtroppo spesso siamo portati a pensare che quello che andiamo a scegliere poi diventa davvero un evento che ci canalizza poi in un futuro. Cioè è una scelta che a me sembrava molto importante. Inizialmente avevo deciso, mi ero anche iscritto in una scuola di tecnico-informatico, comunque ero appassionato un po' di informatica, mi piaceva questo argomento. Poi sono successe due cose, secondo me. La prima è che un po' ho capito che quella scuola, quando ho fatto lo stage e quant'altro, era comunque impegnativa, c'era anche della fisica, era una scuola dove quantomeno dovevi studiare, insomma funzionare. Materine aspettate. Sì, comunque dovevi studiare, dovevi metterti a casa quando tornavi a studiare, a fare delle cose da una parte, dall'altra credo di avere subito anche un po' l'influenza magari degli insegnanti che, mi ha detto, è un istituto tecnico, tu è meglio che vai magari in un istituto professionale, così vai subito a lavorare, non fa per te, e un po' questo, un po' che non avevo voglia di studiare, ho detto ma sai che c'è, effettivamente forse ci può stare, e quindi quello che ho fatto è, mi sono disiscritto tipo qualche settimana dall'inizio di questa scuola e sono andato a fare una scuola che assolutamente non avrei mai pensato, che non mi interessava, ma con un solo obiettivo, ho detto ok, cerchiamo, quali sono le scuole che, dove comunque mi possono portare a fare un lavoro rapidamente, ma soprattutto dove sto lì un due, tre, quattro anni e non faccio niente, cioè li prendo come anni di transizione, ok, e quindi sono un po' informato con gli amici dell'epoca, ho detto, oh ma guarda che c'è una scuola dove non fai niente, niente, sono andato a fare un istituto professionale per diventare... Scalpitavi per lavorare, per entrare nel mondo del lavoro. Per non fare niente per tre, quattro anni in quel momento, quindi ho detto ok, tra quattro anni ci penso, però per tre, quattro anni almeno so che non faccio molto, e mi sono iscritto a, credo, la scuola più semplice e peggiore, forse, della nostra zona. Mettiamola così, hai ricaricato le pile in vista poi del tuo futuro per usare tutta quella energia che hai tenuto lì in attesa. È stato intenso, è stato intenso. E qual era la tua occupazione poi quando ti sei affacciato nel mondo del lavoro? E come ti sentivi a riguardo? Ti piaceva la tua occupazione? Amavi quello che facevi oppure no? No, assolutamente no. Mi è stato davvero quasi tragicomico, cioè nel senso io ho iniziato questa scuola come istituto professionale per diventare il termoidraulico e ho detto bene, non si fa niente, ci sta. Tuttavia dopo il secondo anno quando aveva iniziato, non so, gli stage all'esterno, aveva iniziato a fare un terzo del tempo, era dedicato al laboratorio perché era molto pratica e questo secondo me è positivo, però mi sono reso conto di una cosa che avrei dovuto andare a fare l'idraulico e che gli stage erano di idraulica che a me era terribile, per me faceva per niente. Non mi piaceva, tant'è che quando ci sono stati gli stage io a volte andavo più con gli elettricisti perché era più divertente secondo me, perciò non mi è piaciuto per niente. Ho terminato la scuola, ho preso comunque questo diploma, effettivamente per 3-4 anni sono stato un po' parcheggiato nel senso che ho fatto il minimo indispensabile e sono uscito comunque con voti buoni perché bastava ascoltare per fare le cose e poi quando sono uscito mi sono trovato un attimo in un momento di perdizione con, devo dire, abbastanza rassegnazione sul fatto che io ormai ho fatto questa scuola, ho fatto questa scelta, dovrò fare questo nella vita. e così sono andato effettivamente a ricercare un lavoro all'interno di questo settore e ho iniziato a cercare lavori come assistente idraulico, come portaborse per gli idraulici, eccetera e ho trovato, dopo aver fatto un po' di colloqui, qualcuno che mi ha effettivamente detto ok dai vieni, ci dai una mano e quindi ho fatto l'assistente idraulico per qualche mese solo che ho capito una cosa, cioè in quel caso, uno che non mi piaceva per niente è stato ribadito questa attività, è davvero intensa, non fa assolutamente per me da una parte e dall'altra che non mi pagavano niente, nel senso che comunque ci sta, è un apprendistato io sicuramente ero solo un peso e mi stavano facendo un piacere, me ne rendo conto però prendevo 3-400 ore al mese, lavorando 8-9 ore, aiutandoli per questo tempo e quindi ho detto, sai che c'è? Disse che il lavoro non mi piace, non mi paga niente mi trovo un lavoro che comunque non mi piace, ma che mi pagano almeno e quindi sono finito a fare il magazziniere per una grande azienda di logistica che è stato molto intenso perché questo è accaduto nel periodo natalizio dove le consegne di questa azienda esplodono quindi lavoro triplicato improvvisamente io ho iniziato a fine novembre, lavoravo dalle 7 del mattino alle 8 di sera con un'ora di pausa pranzo e sabato facevamo part time, cioè dalle 6 alle 2 senza pausa, che erano 8 ore quindi immagino proprio che suoniassi qualcosa di diverso per te mamma mia, è stato intensissimo però guarda, ero entrato lì con l'obiettivo di dire ok, siamo a novembre quest'estate voglio andare in vacanza purtroppo non abbiamo mai avuto tantissimi soldi in famiglia, il giusto insomma e quindi le spese che facevo me le dovevo necessariamente sostenere io quei lavoretti, ho portato le pizze, ho fatto il PR in discoteca per alcuni anni però comunque non bastava, erano poche robe ho detto mi trovo un lavoro per andare in vacanza quest'estate poi ci penso, questo è stato l'obiettivo sono finito qua, sono finito qui e le ore erano devastanti davvero, comunque sono tante ore, cioè tornavo a casa, dormivo e il giorno dopo alle 5 ero sveglio e quindi era molto pesante però io dicevo ok, mi faccio questo mese così che poi quest'estate con quei mille euro posso andare in vacanza e poi pensarci a un certo punto del mese passato ho iniziato il secondo mese e ho fatto il secondo mese poi ho iniziato il terzo mese ormai i soldi per andare in vacanza ce li avevo però dicevo, però ogni mese mi entro in quei mille due, quei mille quattro non è così male nel momento in cui ho pensato questo cioè ho detto, ho iniziato a dire per la prima volta cioè mi è giunto questo pensiero del vabbè però sai che c'è, effettivamente sono già passati tre mesi potrei farne qui ancora due o tre e poi vediamo ecco, quando è successo questo io ho avuto come un flash che mi sono visto proiettato a 30-40 anni più avanti con la pancia che guardi come nei film che immaginate è stato davvero assurdo è una cosa vera, cioè mi è successo e io il giorno dopo poi sono tornato a casa e mi sono licenziato e non sono più tornato questo perché, non so, ho come sentito che quando ho pensato potrei effettivamente fare qualche mese in più era il momento in cui dall'inpoi se non avessi preso una decisione mi sarei abituato a quello stipendio mensile e magari me ne sarei andato dopo tanti anni e non era assolutamente il motivo perché avevo iniziato perciò mi sono licenziato e non ti sei voluto abituare comunque la pancia adesso non ce l'hai quindi futuro rosio e invece avevi qualche passione allora che magari ti ha indirizzato nel tuo percorso dell'adesso ti ha aiutato o magari nel futuro che vorrai coltivare? allora, qualche passione ho sempre fatto alcuni sport che poi mi hanno indirizzato non credo che qualche passione di per sé mi abbia effettivamente indirizzato a quello che è successo dopo però tante attività, tante piccole cose mi hanno dato alcuni elementi che poi ho utilizzato nel futuro questo sì, come passioni, non so, io facevo ho sempre fatto degli sport un po' alternativi ho fatto parkour per tanti anni finché non mi sono ammazzato poi, giustamente oppure, non so, mi piaceva molto usare la moto possono essere abbastanza normali da una parte quindi queste molto sportive, molto fisiche e poi avevo l'altra passione che invece è completamente opposta dove, non so, serie tv oppure ero molto fissato con quello che sono i giochi strategici online di ruoli via discorrendo ero molto forte di nuovo la strategia che tu hai sì, sì, ma infatti penso che poi il vero legame grosso è l'unica cosa che mi sono portato un po' avanti deriva da qua cioè il fatto di due aspetti intanto essere in grado di creare delle strategie in questo caso in dei giochi però anche nel mio piccolo non so, faccio il PR avevo creato una piccola struttura riuscivo a creare delle strategie per ottenere delle cose da una parte e poi una cosa che mi ha sempre contraddistinto mi sono accorto molti anni dopo è il fatto di dell'ossessione cioè io mi interessavo di tante cose per pochissimo tempo perché mi annoiavano e tutt'oggi è così ma quando invece ne trovo una di cui mi appassiona veramente cioè per me diventa l'ossessione della vita per finché non raggiungo qualcosa e questo è stato per quel gioco dove magari sono diventato molto forte o poi mi sono ossessionato e magari è stato così per gli investimenti quando hai iniziato a interessarti a questo mondo? sì è stato assolutamente proprio al cento per cento cioè io quando ho iniziato a avvicinarmi a questo mondo che è stato qualche mese dopo aver lasciato il mio lavoro in quel caso ho capito che era un qualcosa di un'opportunità grande che poteva effettivamente cambiare come potrebbe essere la mia vita dagli avanti da una parte dall'altra capivo che il premio era molto importante perché avrei voluto potuto davvero ripeto cambiare la mia vita o arrivare a qualcosa di davvero grande e quindi unendo queste due cose devo dire che io ho iniziato mi sembra nel 2015 o fino al 2014 ad entrare in questo mondo mi sono proprio completamente ossessionato in maniera maniacale da lunedì alla domenica tutti i giorni 10-12 ore penso per fino al 2020 almeno con una grande dedizione e ci sono state delle sfide che hai dovuto affrontare e saranno state magari inevitabili o è andato tutto liscio perché no? no le sfide sono state importantissime ci sono tuttora ma quelle nel percorso sono state molto forti e principalmente riguardano il fatto che io ho fatto un percorso credo nel mondo degli investimenti abbastanza rapido ora molti magari commentano o pensano che comunque è abbastanza rapido in tre anni fa tutto questo perché magari vedono online i contenuti da qualche anno in realtà dal 2014 al 2024 sono 10 anni che se fatti però 10-12 ore al giorno davvero da lunedì alla domenica cioè se tu consideri le ore di una persona normale non so 8-9 ore di un lavoro ordinario vuol dire che ho lavorato tre volte tanto cioè vuol dire che i miei 10 anni comunque in realtà sono stati 30 anni di attività ordinaria e per questo che ho potuto dato che ho lavorato tante ore da una parte dall'altra inizialmente sono stato anche molto incosciente quindi ho sperimentato tantissime cose in pochissimo tempo e questo ha avuto indubbiamente dei grandi pro perché mi ha portato su alcune operazioni su alcune cose profitti importanti e rapidi di contro delle perdite anche gigantesche io avevo fatto un video anche qualche tempo fa che l'ho condiviso è stato molto forte come uscita credo che in questi 10 anni cioè io abbia perso tra in tante cose diverse almeno 4-500 mila euro che sono tanti soldi è stato molto intenso in cose diverse però quindi questo è per risponderti ci sono stati momenti difficili tantissimi cioè ho perso tutto 4-5 volte avevo l'obiettivo talmente chiaro che il giorno dopo stavo già facendo qualcos'altro per rifarmi però oggettivamente sono momenti tosti almeno da assorbire però ogni volta impari qualcosa di nuovo quindi la volta dopo fai un errore diverso fai un errore diverso fai un errore diverso a un certo punto hai fatto non tutti ma una parte importante degli errori e allora puoi iniziare a prendere più benefici diventi più consapevole ogni volta comunque si credo che le sfide più grandi che ho dovuto affrontare sono state queste sicuramente il fatto di aver perso in diverse occasioni tutto non so dalla prima operazione che ho fatto immobiliare che è andata male ho perso 30.000 euro ancora prima tutti i miei primi tre investimenti ogni volta sono stati sbagliati cioè io quando sono andato in questo mondo ho fatto tre investimenti ci credevo tantissimo ho messo tutti i soldi che avevo erano pochi avevano due o tre stipendi che avevo messo da parte ho scoperto poi che avevano delle truffe li ho persi tutti poi li ho rimessi da un'altra parte una truffa cioè le prime tre volte è stata una tragedia e ogni volta tornavo a lavoricchiare per avere del piccolo capitale per effettivamente rialzarmi e poi quando il capitale aumentava le volte perdevo più soldi perché avevo di più da perdere e quindi appunto poi l'operazione avevo perso 30.000 euro abbiamo obviato delle aziende costee anche con altri soci abbiamo avuto dei mancati pagamenti giganteschi sono tante cose da imparare molto intense e questa è la categoria del cavolo ho perso soldi ho fatto tanti errori ma non conosco una strada alternativa dall'altra forse una sfida importante è stata anche acquisire quella mentalità che ti porta per ottenere risultati quindi lasciar morire una parte che effettivamente poteva essere quella che ti ho raccontato poco fa cioè della persona un po' istintiva che un po' più casinista che si lancia ha dovuto parzialmente morire questa parte per dar spazio alla parte un po' più analitica un po' più del fare le cose fatte bene però c'è voluto tempo e tanta fatica indubbiamente ma la tua famiglia i tuoi amici ti hanno seguito ti hanno appoggiato nel tuo percorso o c'è qualcuno insomma che ti ha guidato nel tuo cammino magari hai fatto tutto tutto da solo allora per quanto riguarda la mia famiglia devo dire che sono stato contento e sono stati davvero bravi e sono molto grato che quantomeno mi hanno permesso di iniziare questa attività non in maniera assolutamente semplice perché io quando poi parlando del primo lavoro ho deciso effettivamente di entrare in questa azienda a fare il magazziniere per un po' di mesi ecco mio padre per farmi entrare visto che era a capore parto da un'altra parte si era esposto un po' la persona sera vedrete che sta qui un sacco di tempo tre mesi li ho mollati e quindi lui non è che è stato proprio entusiasta di questa scelta probabilmente gli hanno detto anche qualcosa dietro ecco e quindi è stato ascoltato è assolutamente ragionevole mia madre invece ha detto che fa troppe ore ci sta che faccia qualcos'altro ok è andata così perciò ho iniziato a fare altre attività e per un po' mi hanno lasciato fare poi dopo sei mesi otto mesi dieci mesi dove facevo solo lavoretti vedevano che non quagliavo non portavo avanti niente non arrivavano risultati ecco ogni tanto iniziano a dirmi ma hai studiato idraulica lo sai che stanno cercando da questa parte perché non vai a propor una famosa proposta di lavoro perché non vai a proporti sai che cercano lì sto facendo delle altre cose che funzioneranno prima o poi non stava funzionando niente però poi a un certo punto hanno funzionato dopo tanti anni quando poi sono andato a vivere da solo sono riuscito a mantenermi eccetera poi in realtà sono stati entusiasti hai avuto ragione però mi hanno non mi hanno mai ostacolato per quanto riguarda le amicizie invece è stato un po' diverso nel senso che le amicizie che avevo in quel periodo che erano un po' gli amici del bar possiamo chiamarli così dove si andava si usciva la sera non si faceva niente magari si andava a bere qualcosa e basta quando io ho iniziato ad appassionarmi al mondo degli investimenti e finanziario da mia indole mi sono infossato cioè mi sono completamente fissato su questa cosa e sono andato con Meetman al 100% quindi ero entusiasta imparavo cose mi capitava di parlarne e stavo cambiando come mentalità e stavo cambiando nelle azioni che stavo facendo e gli amici che avevo in quel periodo magari hanno iniziato a prendermi un po' in giro parlarmi un po' dietro dire ma beh ma ok due settimane fa ti ubriacavi dicevi stronzate e ora ti ubriacavi ancora e direi stronzate cioè non possono cambiare le cose capito e io però mi sentivo che stavo iniziando un cambiamento e che abbiamo i discorsi che andavano a parlare in punti dove non ci trovavamo più e quindi è stato abbastanza automatico che a un certo punto si sono perse le strade io ho incontrato nel percorso però iniziale completamente iniziale altre persone che come me stavano iniziando nessuno che era in fase avanzata e con loro la condivisione di questi sogni di questi obiettivi sembrava avere un seguito cioè non mi giudicavano dicevano che bello anche io vorrei ho questo obiettivo diverso ma comunque grande e quindi ci siamo andati un po' a manforte e insieme abbiamo iniziato magari a fare altri corsi abbiamo poi conosciuto persone che erano più avanti di noi nel percorso qualcuno ci ha guidato qualcuno ci ha insegnato qualcosa qualcuno ci ha insegnato cosa non fare quindi è un esempio da non seguire e con queste persone poi invece si è creata una relazione importante siamo andati avanti e devo dire ogni tanto ci penso e ci parlo con qualcuno di questi primi compagni di viaggio tutti in settori diversi poi siamo arrivati a dei risultati mi sento di dire importanti e questo è bellissimo sì è importante anche avere delle persone che ti aiutino fondamentale davvero lungo il percorso una domanda un pochino più scomoda ecco con quanti soldi sei partito quando hai iniziato il tuo percorso da investitore? certo guarda io avevo pochissimi soldi da parte quindi sono partito con due stipendi che avevo accumulato perché poi avevo fatto tre mesi di lavoro uno me l'ero bruciato a fare dei viaggi così quindi avevo 2.200 euro 2.400 euro sul conto li ho messi tutti in due attività che era delle truffe io in tre mesi li ho persi tutti e poi sono tornato a lavorare ho fatto il portapizze il cameriere ho fatto tantissimi lavoretti per iniziare con un altro investimento ai tempi c'erano gli investimenti online anche i business online che non c'entrava niente con business online infatti erano dei sistemi ponzi online purtroppo io sono caduto in queste trappole inizialmente e quindi andavo a lavorare due mesi li mettevo su un'altra piattaforma questa volta è quella giusta perdevo tutti poi a un certo punto ho capito invece che queste erano stupidate e mi sono avvicinata a quello che era il mondo del trading e poi insomma è iniziato tutto quello che è stato un po' il percorso e hai mai avuto qualche dubbio ripensamento in tutti questi anni oppure riguardandoti indietro hai detto no rifarei tutto da capo allora dubbio su il fatto che sto facendo la cosa giusta in termini assoluti cioè non magari su ok questa attività che sto facendo la porto davanti per dieci anni questo investimento avrò un seguito per dieci anni oppure no non l'ho mai questo non l'ho mai pensato cioè non ho mai avuto una visione a lunghissimo periodo su una singola cosa ma sul dove volevo arrivare cioè lo stile di vita che volevo raggiungere e il fatto che io sarei arrivato a fare investimenti multiasse cioè il quel gol lì non l'ho mai abbandonato cioè ho avuto la fortuna secondo me di leggere un libro che è appunto padre ricco padre povero che conosciamo tutti forse in un momento in cui ero davvero innocente incosciente e io appena l'ho letto non ho messo in dubbio nessuna parola e ci ho creduto fortemente e quindi ho detto ok io voglio fare questa roba qua lo voglio fare e ho iniziato a sperimentare tante cose cosa ha funzionato qualcosa no ma con l'obiettivo di diventare un investore multiasset perché per me era veramente quello che funzionava era troppo giusto e aveva troppo senso il fatto di investire in più asset per quando uno va male cioè gli altri che mi proteggono cioè mi tornava tutto e ho detto io voglio fare quella cosa lì voglio essere un investitore perché un investitore cosa fa è libero ha un po' più di soldi potenzialmente ha più tempo e però non lo fa in modo può sembrare un controsenso però rischioso io vedevo molto più rischioso magari un lavoro dove dipendevi da qualcuno che una mattina si svegliava e poteva licenziarti ma dicevo se io invece avevo un'entrata ne ho quattro cinque scorrelate cioè quella è una sicurezza che nessuno te la toglierà mai ed è la vera libertà e quindi ci ho creduto tanto e ho spinto in quella direzione perciò su questo non ho mai avuto dubbi e infatti ogni volta che andava male una cosa era stata l'unica cosa che mi ha detto che ci arriverò lo stesso in qualche modo una strada la troverò e poi qualche strada è arrivata questo obiettivo ben preciso e prima hai citato un libro fondamentale per la formazione soprattutto per chi vuole iniziare a intraprendere il tuo stesso percorso c'è stato qualche investitore che ti ha ispirato che è stata fonte di ispirazione o qualche libro come quello che hai citato prima che ti ha illuminato certo allora io ho letto veramente tantissimi libri ma quelli che secondo me hanno impattato di più sono stati i primi i primi tre libri se non erro che ho letto sono stati Padre ricco Padre povero il primo sicuramente e è stata per me una pietra migliare nel senso che da quel momento ho detto io voglio fare questo e ho creduto immediatamente che fosse possibile e quello sicuramente ha fatto la differenza perché se io lo avessi letto con delle barriere mettendo in dubbio qualcosa probabilmente non l'ho messo in dubbio perché era proprio qualcosa che stavo cercando in quel momento non avevo lasciato il mio lavoro tutti mi dicevano devi fare qualcosa ormai hai 19 anni devi dare un senso a quello che fai devi lavorare con questa pressione io ci ho creduto subito ho detto ok mi sono attaccato all'idea che esisteva quella cosa effettivamente poi l'ho perseguita se avessi messo in dubbio forse non avrei non sarei andato lì in questo modo quindi per me è stato molto importante perché poi in realtà le cose non sono proprio così semplici come sono condivise però il fatto di credere che potessero esserli mi ha fatto andare avanti poi un altro libro che è stato per me significativo è stato di Thierry Vacker i segreti della mente milionaria davvero un libro interessante perché per la prima volta mi ha fatto riflettere su quanti bias noi abbiamo sul denaro e il fatto che molto spesso non riusciamo a raggiungere quello che può essere il denaro perché abbiamo dei pensieri negativi rispetto al denaro e in qualche modo ha instaurato in me dei semi che poi sono sono cresciuti e mi hanno fatto cambiare abbastanza profondamente in quanto io avevo una quantità di di bias di stereotipi verso il denaro cioè tutti quelli che puoi pensare io ce l'avevo i ricchi sono brutti i ricchi sono cattivi se diventi ricco poi non c'è più tempo io ce l'avevo i soldi sono sporchi tutti quanti ce l'avevo e è stato veramente impattante andare a rilaborarne uno per uno ma credo che sia stato uno di quelli che ha fatto più la differenza in termini poi di mento di persone che mi hanno aiutato devo dire che sono state diverse non ho mai avuto un punto di vista cioè un punto di riferimento totale a 360 gradi ma ognuno magari ogni persona con cui mi sono formato nel tempo ogni investitore con cui mi sono confrontato con cui magari abbiamo fatto anche un pezzo del viaggio insieme mi ha lasciato qualcosa io ho cercato di apprendere da ognuno che cosa potesse lasciarmi e di applicarlo ma sempre con l'ottica di che cosa ne posso trarre nel mio percorso che cosa posso imparare dai suoi errori dalle cose che sta facendo che stanno andando bene in relazione a quello che è il mio obiettivo e quindi ho imparato abbastanza agevolmente come consiglio che hai ricevuto da uno di questi mentori ti ha lasciato un consiglio che porti ancora con te e senti di voler condividere come consiglio credo quello di pensare in ottica di abbondanza che poi effettivamente in una fase un po' più avanzata di quello che è stata la mia carriera da investitore dove però ancora lavoravo tantissimo tempo quindi nell'avviare progetti nella fase in cui finale dove anni fa lavoravo ancora 10-12 ore tutti i giorni una persona mi ha detto questo ovvero che noi dobbiamo ragionare in abbondanza e quindi includere io in quel momento ero focalizzato solo ed esclusivamente su il fatto di quell'anno guadagnare quella cifra quell'importo e questo per me era a prescindere da quanto tempo dedicasse a quell'attività e questo che cosa comportava comportava una cosa molto pratica che non so io magari quell'anno siccome avevo un obiettivo di patrimonio di un certo tipo sapevo che con le varie attività avrei dovuto guadagnare 200.000 euro 150.000 euro quello che è e quindi in quell'anno accettavo tutte le tipologie di lavori e dedicavo tutto il tempo disponibile per rincorrere effettivamente quella cifra e ci arrivavo ok questa persona mi ha detto devi pensare in abbondanza e includere quindi non devi semplicemente nell'equazione ok dell'obiettivo dell'anno dire voglio fare 150.000 euro ma devi aggiungere dei pezzi ovvero voglio guadagnare 150.000 euro per questo motivo nel mentre che faccio questo questo e quest'altro nel mentre che imparo una lingua frequento e do attenzione alla mia compagna e faccio due ragioni di sport e inserendo questo all'interno dell'equazione quello che è successo dagli anni a venire è che ho ridotto a un terzo il tempo dedicato al business all'imprenditoria agli investimenti i risultati sono aumentati perché semplicemente fai azioni differenti ti circondi di persone assumi gente trovi nuovi collaboratori fai le cose in un modo diverso e intanto vivi la vita e quello sembra paradossale ma io per tutti gli anni prima ho soltanto pensato alla parte business e quant'altro e bastava aggiungere questo pezzo nell'equazione però un piccolo pezzo fondamentale forse è arrivato al momento giusto prima non l'avrei recepito che ha fatto la differenza poi in te è stato completamente e invece le sfide principali che hai affrontato te ne vengono in mente altre o ce n'è stata una significativa? allora le sfide principali affrontate ci davvero sono tantissime sono veramente tante credo che mi sento di dare a ognuno un po' la stessa importanza io le collego molto ai momenti in cui ho subito delle perde importanti di denaro in questa attività le prime sono state forti perché comunque erano basate anche su l'aver creduto tanto in un'idea in un progetto che mi avevano proposto magari inizialmente ma che poi si è rivelato assolutamente alla truffa io mi sono sentito anche molto stupido nel non averlo capito ma non avevo le informazioni per capire che avrei potuto perdere soldi in quel modo per poi rifare la stessa cosa rifarlo tre volte quindi mi sono sentito molto stupido e quando questo è avvenuto in un momento in cui magari in quel caso magari forse sbagliando io facevo anche un po' con le compagnie che ti ho fatto inizialmente o con altre persone dico lo spavaldo però dicevo io sto facendo questa cosa che è figa che funzionerà è un ottimo investimento ecco poi perdere soldi e sentire persone che dicono eh vedi cosa volevi fare ce l'avevamo ragione noi non possono funzionare queste cose quello è stato forse uno dei momenti di più sconforto in assoluto però la visione il desiderio di rivalsa forse mi ha fatto continuare è stato l'unico tentennamento grosso che ho avuto e per qualche mese forse ho pensato di lasciarlo da parte e l'ho fatto successivamente invece le botte sono state grosse ma ho cercato sempre di imparare qualcosa da ogni situazione cioè quando mi hanno presentato non so la prima operazione pseudo immobiliare un po' di anni fa dove poi ci abbiamo perso 25-30 mila euro quando è finita un po' la rabbiatura ok mi sono chiesto che cosa potevo analizzare di diverso per accorgermi che non funzionava cosa ho sbagliato e quindi ogni volta poi sono ripartito essendo sempre più analitico poi questo percorso mi ha portato ad essere oggi abbastanza forse anche troppo analitico in tutto però funziona sempre lo stratega iniziale eh sì si espansa parlando di cose belle c'è stato un momento in cui hai capito che avevi raggiunto davvero il successo quel momento in cui hai esclamato ce l'ho fatta finalmente o deve ancora arrivare parzialmente cioè c'è stata parzialmente o meglio ho imparato a nel tempo effettivamente a apprezzare a fermarmi un attimo in alcuni momenti dire comunque va bene cioè godiamoci i risultati tra i guardi che ho fatto io quando sono partito mi ero posto in un obiettivo patrimoniale di una cifra che avevo in mente perché pensavo questa mi avrebbe potuto effettivamente poi sistemare che è cambiata nel tempo perché quando ho iniziato ho detto cavolo quando io avrò 100.000 euro da parte sarò a posto non avevo iniziato arrivi lì che non c'è niente 300 perfetto sarò poi a posto anzi la sticella e poi in realtà non sei mai a posto e quindi questo mi ha fatto sì che non mi sono mai goduto nessun traguardo l'ho sempre immediatamente spostata senza fermarmi a dire ok però fermiamoci un attimo ho fatto comunque delle cose buone e questo è successo poi quando ho iniziato effettivamente però a spostare l'attenzione anche solo sulla parte lavorativa alle altre aree io credo che le migliori soddisfazioni le cose più importanti siano avvenute nel fatto di poter recuperare tanto tempo libero e oggi godermi altre aree della mia vita questo è stato il traguardo più importante però non c'è stato un momento in cui ho detto ok sono arrivato cioè è stato sono sempre stato talmente nel flow talmente dentro la cosa che sono stati pochi momenti in cui dall'estero ho detto ok però ho fatto anche cose belle sai cosa non l'ho mai celebrato ma perché io penso questa cosa ok che cioè ho scelto io di farlo investitore ho scelto io di farlo imprenditore l'investitore che cosa deve fare deve allocare del denaro del tempo delle risorse per farne tornare di più cioè è quello è il suo lavoro non è che se io investo 300.000 euro in operazione e poi me ne torno a casa 100 in più sono stato bravo ho fatto il mio lavoro cioè un cameriere che porta che porta un caffè fatto bene e sparecchia bene cioè non è che gli dicono bravo che deve celebrarla quella cosa l'ha scelto lui quel lavoro lo sta facendo bene io l'ho sempre vista con questo paragone e quindi non mi veniva mai da celebrarlo perché non ho fatto niente di più di quello che ho scelto di fare come lavoro cercando di farlo al meglio non penso che un cameriere poi riprende il piatto va dietro però i traguardi sono stati raggiunti effettivamente anche giusto ogni tanto darsi una pacca sulle spalle dire però sono stato bravo magari questa sera ti verrà da pensarci lo farò e invece senti se dovessi ricominciare tutto da capo oggi da cosa partiresti nel tuo percorso da investitore guarda questa è una domanda che mi viene fatta spesso dalle persone che si avvicinano ed è difficile rispondere cioè è davvero difficile e credo che se mi fai questa domanda oggi me l'hai fatta se me la facessi però tra tre mesi sei mesi me l'avessi fatta un anno fa ti avrei risposto sempre in maniera diversa però c'è un filone comune alla risposta che ti vorrei dare che è questo cioè praticamente indifferente nel senso che un investitore che arriva a vivere di investimenti e quindi che investe su più asset il proprio denaro per avere indietro delle rendite una crescita patrimoniale e quant'altro comunque ha un legame che è che tu devi avere un patrimonio a un certo punto oggettivamente importante per fare un patrimonio importante ci sono una serie di step che devi fare il primo è decidere su quale attività concentrarti e ci sono oggi tantissime opportunità interessanti e anzi forse questo è il pro e il contro del 2024 che abbiamo tantissime informazioni facciamo fatica a capire quali sono giuste quali sono sbagliate e ci sono tantissime attività assolutamente valide cioè ad esempio per iniziare anche con pochissimi soldi non so il trading come professione oggi ci sono tante società che finanzano effettivamente quello che è un trader si dimostra di essere bravo quindi si può partire da lì si può partire dal settore immobiliare senza soldi andando a imparare come si trovano gli affari segnalare ad investitori e ricevere delle commissioni per questo per poi scalare quell'attività si può partire dal creare un business online con 20 euro il costo di un dominio il costo di poca roba e queste qua sono tutte valide qual è che questa che fa la differenza sceglierne una e sposarla a pieno quindi una volta che si è scelto dimenticarsi tutto del resto diventare esperto e professionista in quell'area per poi effettivamente scalarla verticalmente e orizzontalmente cioè se tu decidi che vuoi che la tua opportunità è quella del cacciatore immobiliare trovare immobili devi dimenticarti del resto perché tanti oggi si distraggono e saltano da una cosa all'altra e non combinano niente il problema di questa troppa informazione le scelte devi concentrarti imparare quell'attività monetizzarla e poi non alzare il tuo stile di vita ma andare effettivamente a reinvestire sull'attività stessa per farla crescere il più possibile per quale obiettivo per far sì che la scali e che ti porta molto reddito per poi andare a investire sulle altre entrate ma questo è indifferente cioè se tu quel reddito grande lo fai scalando la parte online la parte del trading la parte dell'immobiliare cioè noi conosciamo migliaia di persone e ognuna ha ottenuto successo il successo principale da attività differenti però la scelta si è focalizzata e l'ha fatta quindi da dove partirei da quello che in quel momento sento più incline con magari alcune esperienze e competenze che ho ma soprattutto che sento che mi fa accendere in quel momento per tanto tempo è stata la parte online per in questo momento sono molto appassionato interessato alla parte immobiliare quindi magari potrei ripartire da lì l'importante che è qualcosa che ti accende perché comunque il percorso non è lineare cioè io l'ho vissuto tantissime volte e forse più di altri cioè il percorso è costantemente sta funzionando e quindi sei tranquillo arriva un mare di merda e poi torni giù e quindi ci sono un'infinità di cose che non andranno durante il percorso e se tu non senti che ti ti risuona quell'attività e non c'hai la passione non hai preso la decisione al primo imprevisto molli ma l'imprevisto ci sarà è soltanto questione di affrontarlo ma per affrontarlo occorre avere la visione chiara di dove si sta arrivando e aver fatto la scelta giusta sull'attività da cui partire quindi quella che davvero ci risuona e ci piace anche fare perché sennò è troppo faticoso farlo certo e ultimissima domanda un consiglio un piccolo grande consiglio che ti senti di dare ai futuri investitori e imprenditori di oggi certo guarda il consiglio più grande che mi sento di dare è quello che è successo a me per caso ma che avrei voluto ricevere è quello di parti credi che sarà semplice cioè parti perché sarà semplice tutto bello e andrà tutto super bene ce la farai ovviamente non è così in nessun modo ma se io su questo sono abbastanza lo penso seriamente se io quando sono partito avessi saputo davvero tutte le sfide che ho dovuto affrontare e quanto comunque sarebbe stato intenso non so se sarei partito invece partendo con la inconsapevolezza di vai che sarà semplice vai che ce la fai sarà tutto figo vai sono partito tanto poi passati una volta e affronti quindi partite quel pizzico d'incoscienza che poi ti fa sana incoscienza sana incoscienza grazie mille Alessandro grazie mille grazie mille